Community building, letteralmente, costruzione di una comunità. Obiettivo una salute condivisa, partecipata, con diversi attori che diano completezza a percorsi di cura sempre più personalizzati, mirati e decentrati. È il cuore battente della riforma sociosanitaria Lombarda che a Varese pianta radici in una giornata di prevenzione dal cancro al seno nella sede degli infermieri. Abbiamo organizzato una giornata di controllo e di prevenzione per le donne della Polizia di Stato. Ci è sembrato anche un buon modo per ringraziare quelli che sono i nostri colleghi, e nel Covid ci siamo trovati sempre molto vicini, che curano la sicurezza delle persone quanto noi curiamo la salute. Parola d'ordine, sinergia. 55 mila nuovi casi all'anno in Italia, in provincia di Varese più di mille. Però sappiamo molto bene che questo dato inquietante viaggia parallelo con un dato molto rassicurante, che la percentuale di guarigione supera di gran lunga il 90%, ha un patto però che la diagnosi sia sempre più precoce e che la cura avvenga nei centri di senologia dedicati, le famose breast unit. Care donne, chiude l'esperta, imparate ad ascoltare il vostro corpo. La donna deve solo avvertire se c'è qualcosa che non va, poi speriamo che questo qualcosa che non va sia nulla, nulla di serio, ma è importante avvertire perché ovviamente le visite sono periodiche, generalmente una volta all'anno, così come gli esami strumentali che vengono personalizzati ma mediamente sono una volta all'anno, la donna invece ogni mese si deve valutare e quindi permette in alcuni casi un anticipo diagnostico davvero significativo.